Buongiorno e ben ritrovati al nostro quasi quotidiano appuntamento con la rubrica Un Limerica al Giorno e Viva. Stavo pensando oggi al valore, all'importanza e alla praticità di questo modo di lavorare da remoto, il cosiddetto smart working, soprattutto per chi, come me, ha la casa che è poco più grande di una smart. E c'è un'altra parola che mi fa riflettere, come a tutti noi, una condizione che stiamo vivendo un po' tutti, ed è la parola quarantena. Così sono andata un po' a scartabellare in internet e ho scoperto che quarantena è una pro-pro-pro-zia del grande regista americano Quentin Tarantino. E io adesso farò una carambata e, con grande emozione, Quentin Tarantino è qui. Non fare il timido, Quentin, vieni. Dai, su, forza. Ecco, ciao, Quentin, benvenuto alla nostra... Microfono, microfono. Si sente? Prova, prova. E, Quentin, ciao, grazie, benvenuto alla nostra piccola rubrica interbibliotecaria intergalattica. Come stai? Oh, Francesca, intanto, grazie. Sono molto onorata di essere qui in vostra traduzione che il Lave Lathman Show ci fa una peppa. Oh, yeah. E ho... Grazie, addirittura. Grazie, grazie. Scusami, Quentin, sono un po' in imbarazzo. Posso chiamarti Mario? Ma certo, darling, tu puoi chiamarmi come vuoi. Ok, Aldebrandu. Dicevamo, è vero che tu hai una parente italiana qui che si chiama Quarantena. Ma, ovviamente, il mio cognome denunzia chiaramente le mie radici italiche tarantino. Sono bellunese per parte di padre e valdostano per parte di madre. Sì, effettivamente, era chiaro. Tornando alla zia. Dicevamo, sì, che questa mia parente lontana ha un nome molto molto lungo che si chiama Maria Catena Assunta Concetta Benedetta Libata del Santissimo Sacramento Tarantino. E quindi abbiamo deciso di fare una crasi di questo lungo nome che ci volevano 40 giorni per pronunziarlo e la chiamiamo da ora in poi Quarantena. Beh, sì, grazie. Sì, è tutto chiaro. Sì, effettivamente tutto torna. Vuoi dire altro? Ma io vi saluto tutti. Vi auguro buon lavoro. Tenete duro che noi siamo con voi. Ok, grazie, grazie Quentin. Io ti lascio tornare a spremere quel gran genio di regista che sei. Oh, grazie a tutti. Vi bacio, vi amo. Grazie, grazie, ciao Quentin. Mamma mia, l'emozione. Oh, buono. E però questo spazio si chiama Limerick e quindi noi a questi torniamo senza troppo divagare. Il Limerick di stamattina lo voglio dedicare alla mia biblioteca del cuore, alla biblioteca di Gardone, che non vedo l'ora di ricominciare a frequentare. E in particolar modo questo Limerick è dedicato alla mia bibliotecaria preferita, che mi ha dato il permesso di esporlo così, tal quale, senza censura, senza censura. Ok, pronti. Lavora in biblioteca a CVT una donzella di nome Sandrina, gentile, appassionata, competente. Ha un solo piccolo difetto. Accoglie con una pernacchia ogni utente. E costo restere fatte in coro. Ma che fa, scusi? Le pare il caso? E lei, con candore chi? Io? E di buon grado, intanto, beatamente, si smoccola in naso, mentre pigia il tasto invio. Che strana gente fanno lavorare in biblioteca a Gardone, che pure è frequentata da un sacco di persone. Grazie dell'ascolto. Buona giornata. A presto. Buona giornata.